Ufficiali pronti! C'è un po' di più! Forza nemica in vista! 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 Allarme incendio! Forza nemica in vista! 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 Grazie a tutti. Allarmi incendio! Abbiamo distrutto una corzata nemica! Problema risolto, signore! Allarmi incendio! La nostra vittoria è vicina! La porta aerea inimica sta colando a picco! Allarmi incendio! Allarmi incendio! La porta aerea inimica sta colando a picco! Allarmi incendio! Allarmi incendio! Allarmi incendio! Allarmi incendio! Allarmi incendio!